cordino elastico a metraggio rivestito in filo verde da 5 mm si può prendere al metro lineare è un buon elastico molto molto resistente paragonabile a quello dei portapacchi si può agganciare con qualcosa mettere delle fascette utilizzarlo per gli impieghi più disparati verde oliva militare regge molto bene allo strappo è un ottimo prodotto venduto anche in ambito militare